Insegnante d'italiano alle suore straniere. In questo modo Roberto Formigoni, ex governatore della regione Lombardia, finirà di saldare il suo debito con la giustizia italiana. Formigoni, che stava scontando ai domiciliari la condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione per la vicenda Maogeri-San Raffaele, ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano l'affidamento in prova ai servizi sociali. La richiesta è partita dallo stesso Formigoni due anni fa. La risposta positiva, giunta quasi in zona Cesarini, gli consentirà di scontare la pena residua poco più di un anno al piccolo cottolengo Don Orione. Roberto Formigoni non ha mai ammesso le proprie responsabilità.